Siamo arrivati al terzo episodio di questa serie che vi sta piacendo veramente tantissimo Vi ringrazio per questo e vi ricordo di scrivermi nei commenti una vostra carriera Perché nel prossimo episodio potrei raccontare proprio quella Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio Della serie in cui racconto le vostre carriere Una volta terminata quella in cui vi raccontavo la mia Che tra l'altro trovate sul canale è stata un'avventura pazzesca Terminata per l'appunto sabato scorso Oggi è il momento di tornare con un nuovo racconto Che avete sicuramente già intuito dal titolo Ma un racconto diverso rispetto a quelli che abbiamo seguito fino adesso Per più motivi ma ci arriveremo a episodio in corso Detto questo però prima di partire come vi dicevo all'inizio Scrivetemi nei commenti una vostra carriera Fatemi un quadro generale Poi vi ricordo un paio di cose al volo Seguitemi su Instagram perché è molto importante per restare più in contatto con me E farvi i fatti miei che è sempre una cosa molto carina Iscrivetevi chiaramente se siete nuovi Se siete qui per caso E infine vi ricordo che avete la possibilità Se vi va di abbonarvi al canale Per contenuti in più Esclusivi Extra Se non vi abbonate non cambia nulla Avete comunque tantissimi bei contenuti Tantissimi video per voi E allora mettetevi comodi Perché vi sto per raccontare lo Juve Stabia di Nicola E attenzione Non tutti lo sanno naturalmente Ma Nicola ha un canale su Youtube Vi lascio il link in descrizione Canale all'interno del quale tratta anche e soprattutto la carriera allenatore Non con lo Juve Stabia Perché era la sua personale di quest'anno Ma per esempio quest'anno vi ha portato il Leicester Ma partiamo con il racconto E vi dicevo che ci sono delle novità Rispetto ai precedenti due episodi usciti sul canale Vale a dire Vi ho elencato lì un po' tutti i risultati Qui non lo farò Perché comunque sia non li abbiamo tutti Abbiamo dei momenti chiave della stagione Stagione che vede lo Juve Stabia di Nicola In Serie B Da neopromossa tra l'altro E allora all'ombra del Romeo Menti Arriva un tecnico appunto Nicola Giovane e ambizioso soprattutto Un tecnico che sogna già una seconda promozione di fila Non sarebbe l'unico a riuscirci In Serie B Dalla Serie C alla Serie A Poi tutto di fila Però comunque la sogna Per farlo però C'è bisogno di un mercato ambizioso Tenendo conto del budget Lo Juve Stabia può spendere all'incirca 4 milioni Di cui tre vengono utilizzati per riportare in Italia Una scommessa praticamente Graziano Pellè Che si era messo in evidenza in Premier League Prima dell'Europeo del 2016 Al quale ha partecipato Che ha giocato bene fino a quel calcio di rigore Contro la Germania Lì si è un po' capovolta la sua carriera E è andato a giocare allo Shanghai Dal quale è stato appena prelevato Dallo Juve Stabia di Nicola Non è però l'unico acquisto Perché arriva un'altra mossa Un'altra operazione in entrata Sempre nel pacchetto offensivo E si tratta di un espertissimo E mai banale E con questi due principali acquisti Della finestra di mercato estiva Lo Juve Stabia può sognare in grande Certo l'inizio di stagione Non sarà troppo semplice E adesso lo capiremo Però comunque si può sognare Perché nonostante la rosa Non sia sicuramente tra le migliori in circolazione Con Pellè di turno Con Moscardelli per l'appunto Con la fame che può trasmettere L'allenatore Nicola E allora si può far bene La prima gara ufficiale della stagione È subito rocambolesca Coppa Italia Si gioca un derby contro la Salernitana Volete sapere com'è andata? Beh mi limito a dirvi che al novantesimo Siamo 3 a 3 E non è finita Perché dopo i supplementari Siamo 4 a 4 Una gara infinita davvero Si va ai calci di rigore Segna una Segna l'altra Segna una Segna l'altra Fino a quando si arriva all'ultimo rigore Che deve battere la Salernitana E che Russo Portiere dello Stabia Riesce a parare Passa lo Juve Stabia Che giocherà il turno successivo Della Coppa Italia E dunque stagione che comincia Subito bene Per quanto riguarda insomma Le gare ufficiali Per il nuovo tecnico Per quanto riguarda il campionato invece La Serie B Che comincia adesso La partenza Vi faccio un quadro generale Anche un po' generico Per quanto concerne appunto la Serie B È positiva Non si parte a razzo Nel senso che lo Stabia Raramente riuscirà ad essere primo Ci riuscirà soltanto dopo tre giornate Perdendo subito La vetta Per qualche passo falso di troppo In stagione E quindi oscillerà Nei primi mesi Dal secondo al terzo posto Dal terzo al secondo Insomma giù di lì Al primo Si alterneranno Empoli Frosinone E Benevento Il primo nodo cruciale Della stagione Arriva alla sesta giornata Lo Stabia si gioca bene Ma L'acquisto più oneroso Dell'estate Ovvero Graziano Pellè Sta un po' deludendo Sin cui non ha mai segnato Anche le prestazioni Non sono risultate all'altezza La sesta giornata però Mette di fronte Cittadella E Juve Stabia E vi preannuncio Che ho le immagini Di questa partita Ringrazio Nicola Ma lo ringrazio doppiamente Perché ok Questa è l'unica partita Di cui ho le immagini Ma godetevi le grafiche Sono quelle ufficiali Da Serie B Ha perso un po' di tempo lui Quindi Grande Nicola Partita che finirà 4-0 Con tre gol di Pellè Un qualcosa di pazzesco Si sblocca la sesta giornata E da qui in poi Comincerà Affidatevi Un'altra stagione Per L'ex Giocatore della Nazionale I mesi passano E si arriva a dicembre È il momento Di affrontare I sedicesimi Di Coppa Italia Nel turno precedente Affrontato a fine estate Nicola era riuscito Ad eliminare Soltanto dopo i calci di rigore La Salernitana Nel derby In questo sedicesimo Si gioca contro il Cosenza In trasferta Si gioca al Marulla La gara è equilibrata È bloccata E il primo tempo Finisce 0-0 Poi però Nella ripresa Per piacere Per goduria Di Nicola Si scoprono un po' Di giocatori Interessanti Il primo è il capitano Tonucci Una difensore centrale Che però Si rivela anche Un goleador E segna un gol pesantissimo Al quinto della ripresa Di testa Su sviluppi da calcio d'angolo 1-0 Per lo Stabia A Cosenza Non è finita però Qualche minuto più tardi Arriva il 2-0 Di Graziano Pellè E poi Nel finalissimo di partita Arriva anche il Tris E volete sapere Chi lo segna? Un nome che probabilmente Non vi dirà nulla E che effettivamente Fino a questo momento Della stagione Non diceva nulla Nemmeno a Nicola Poi Come è successo per Pellè Contro il Cittadella Qui qualcosa cambia Segna Ferdinando del Sole Con un gran sinistro da fuori area 3-0 E qui Il giovanissimo del Sole Inizia anche la sua seconda parte di stagione Perché la Coppa Italia Sarà la sua competizione Ma ci arriveremo Stabia che dunque passa il turno E agli ottavi di finale È già il momento Di una grande sfida Una sfida che potrebbe D'altronde Vista anche La parte realistica Che alberga In ogni partita di FIFA Poca Però comunque c'è E... Ottavo di finale Dicevo Che metterà di fronte Al nostro Juve Stabia La Lazio Si giocherà Allo stadio olimpico Contro i ragazzi Di Simone Inzaghi In una notte Che sicuramente sarà Complicatissima Ma anche elettrizzante Perché la Lazio Ha tutto da perdere Lo Stabia invece Ha tutto da guadagnare Vediamo Scopriamolo insieme Perché potrebbe Torno a ripetere Anche terminare qui La stagione E la cavalcata In Coppa Italia Dello Juve Stabia Effettivamente Effettivamente Dopo 13 minuti Segna Lazzari 1-0 Per la Lazio Finita? Assolutamente no Sarebbe banale Lo Stabia ci mette il cuore E riesce a pareggiare Alla 26esimo Col solito Graziano Pellè 1-1 E il primo tempo Finisce così Ora Bisognerebbe amministrare Il sogno È quello di trascinare La Lazio Almeno ai tempi supplementari Perché sembra Comunque un avversario Troppo più forte È un sogno Che però svanisce Al quinto della ripresa Melenkovich Savic Riporta avanti I biancocelesti In questo momento Bisogna stare Ancora più attenti Perché Bisogna tentare Di attaccare Per provare a segnare Il gol del 2-2 Ma al tempo stesso Non scoprirsi troppo Incredibilmente Lo Juve Stabia Ci riesce E al minuto 70 Segna ancora Del sole Ancora Ferdinando Del sole Secondo gol Stagionale Entrambi In Coppa Italia Entrambi Di una pesantezza Differente Effettivamente Perché comunque Quello era il gol del 3-0 Contro il Cosenz Oggi invece Leggermente più pesante Questo dicevo Ma comunque 2-2 E adesso Voi direte Vincerà tranquillamente La partita Non è esattamente così Perché la Lazio È comunque la Lazio E continua a giocare Continua a creare Continua a dominare Senza segnare però Il gol non arriva Siamo agli sgoccioli Mancano 5 minuti Al novantesimo E mentre I ragazzi di Inzaghi Continuano a dominare A conquistare Calci d'angolo E sognare Il gol del 3-2 Per chiudere Una pratica Che si è complicata Molto più del previsto Beh Sugli sviluppi Di uno di questi corner La palla viene messa fuori Stile Barcellona-Celsi Non so se ricordate Quel contropiede Del Ligno-Torres Alla Camp Nou Ebbene sì Pellè Scatta dietro La metà campo Viene lanciato Da Tonucci Corre in campo aperto Si presenta tu per tu Con la stracoscia E lo batte Per la seconda volta Nella sua partita Per la terza volta totale A favore dello Stabia Che vince 3-2 all'Olimpico E incredibilmente Una squadra di Serie B Si trova Ai quarti di finale Di Coppa Italia Però Ai quarti di finale Visto il sorteggio Probabilmente Sarà costretta A salutare la competizione Perché si andrà a Torino Si andrà a giocare All'Allianz Contro la Juventus Una partita forse Inedita nella storia Una partita Sicuramente inedita In un quarto di finale Di Coppa Italia Una partita Che si gioca In una fredda notte Di fine febbraio E che comincia In modo shock In modo freddo In modo Maledettamente Realistico Dopo mezz'ora La Juve Avanti 2-0 Hanno segnato Ramsey E Rabiot E sembra finita Il primo tempo Finisce proprio così E lo Stabia Si riunisce Un attimo Negli spogliatoi Con mister Nicola Che ragiona Mister Nicola Che pensa Che sogna E che effettivamente capisce Che quest'anno FIFA È un po' particolare In generale Su FIFA Se ci provi Magari ci riesci La sensazione È che quest'anno Se in Coppa Ci provi Ci riesci quasi Sicuramente Non deve diventare Non deve diventare Una sensazione Arrogante Ma semplicemente Costruttiva La Salernitana Rientra in campo Con un altro piglio Nella ripresa E parte proprio Dalla difesa Questo nuovo piglio Perché non vi aspettate Un secondo tempo Di stampo Campano Si riparte comunque Soffrendo Con la Juve Che attacca Con Trois E Tonucci Che non fanno passare Nessuno È un muro Lì dietro E poi si riparte Poi si disegnano Nuovi scenari offensivi A riaprire la partita Al minuto 52 E ancora Graziano Pellè 7 nel secondo tempo Dimezzato Lo svantaggio Di un gol Che però È di una pesantezza unica E adesso bisogna Resistere Ripartire Fare male Minuto 70 Segna ancora del sole 2 a 2 Fermi Fermi È successa Quasi la stessa cosa Dell'Olimpico Ma in modo forse È ancora più clamoroso Perché Oggi non giocavi con la Lazio Giocavi con la Juve Oggi non eri sotto di un gol Poi di un altro Ma di due insieme E hai avuto sempre il carattere Il cuore La forza di reagire Un'eccessiva Quasi paradossale Maturità Perché comunque Sei lo Juve Stabia L'anno scorso Giocavi neanche in Serie B Quest'anno non solo Sei sempre secondo terzo In Serie B E stai sognando Una Doppia promozione Ma ti stai giocando La Coppa Italia A Torino Con la Juventus Non c'è tempo per questi pensieri Cioè non c'è tempo proprio in generale Perché finiscono i regolamentari Finiscono due a due Lo Juve Stabia torna A giocare un tempo supplementare Dopo la sfida Che si era conclusa poi ai rigori La prima stagionale Contro la Salernitana E soprattutto costringe La Juve ai supplementari Già questo È motivo di orgoglio Ma accontentarsi nel calcio È l'ultima parola Presente nel dizionario Il primo tempo supplementare Anche il primo tempo supplementare Finisce in parità Poi il secondo Al minuto 110 Fa esplodere Fa completamente esplodere Il settore ospiti Segna ancora Pellè Come contro la Lazio È ancora 3 a 2 Per lo Stabia di Nicola Sembra tutto bello Troppo bello Talmente bello Che segna Benzema Al centoventesimo 3 a 3 Signori Si andrà ai calci di rigore E la cosa paradossale È che così sa di beffa Perché era vinta ormai E ormai era in semifinale E invece no Potenzialmente puoi uscire ai rigori Sta anche entrambe le squadre Juventus che parte bene con la lotteria Segna Segna anche lo Juve Stabia E si va avanti così Si va ad oltranza così Poi però Un rigore la Juve lo sbaglia Lo sbaglia con Danilo E allora Il pallone Sul destro Di Canotto È quello che potrebbe portare Lo Juve Stabia In semifinale Per la prima volta Nella sua storia Il pallone di Canotto Entra in porta Spiazzando Buffon Che era il portiere titolare Di questa partita Ha vinto lo Juve Stabia Ai calci di rigore Dopo la Lazio Un'altra vittima illustre Forse la più illustre Che poteva capitare agli uomini di Nicola Era la Juventus E viene eliminata Semifinale di Coppa Italia È lunga da dire Anche un po' difficile È quasi complicato Da immaginare Per lo Juve Stabia Ma in realtà Almeno su FIFA 20 E allora godiamoci Questo finale di stagione Di una stagione Magica Per come si sta mettendo Di una stagione Che se ci pensate Potrebbe Essere cominciata Come neopromossa Dalla serie C E concludersi Come neopromossa In serie A Che giocherà L'Europa League Se dovesse andare Tutto per il meglio Succederà Secondo voi? In serie B La situazione Non cambia Se non In un momento Specifico Perché siamo A A inizio marzo E lo Stabia è A meno 2 Dall'Empoli capolista Empoli che perde La sua partita E quindi Vincere il derby Contro la Salernitana Come è già fatto Peraltro in Coppa Italia In una stagione Come è già fatto All'andata Sarebbe Sicuramente importante Per Per centrare Il primo posto In classifica Non arriva però Una vittoria Sorprendentemente In una gara Che clamorosamente Viene persa In rimonta Era 3 a 1 Per lo Stabia Al cinquantesimo Praticamente La Salernitana Vincerà 5 a 3 E quindi Sconfitta Pesantissima Che clamorosamente Farà restare A meno 2 Lo Stabia Sull'Empoli Per carità Ci sarà ancora Lo scontro diretto Però comunque Sconfitta davvero Pesantissima E quando vi parlavo Di quei punti persi In modo pesante Questa partita qui È la fotografia Della stagione Ma comunque Se arrivi secondo In Serie A Ci vai lo stesso In questo momento È importante evitare I playoff Più che altro Anche perché Insomma La situazione in Coppa Italia È ambiziosa E quindi Non vogliamo arrivare Stanchi a fine stagione Anche con il pensiero Dei playoff Ma a proposito Di Coppa Italia È il momento Di tornare A parlare Di questa competizione Le semifinali Chiaramente mettono di fronte Due squadre da una parte Due squadre dall'altra Da una parte Del tabellone Quella che Insomma A noi ancora Non interessa Ci sono Milan E Roma Che si affronteranno In una doppia sfida Interessante Andata A San Siro Ritorno Allo Stadio Olimpico Dall'altra parte Invece Quella che interessa A noi Lo Juve Stabia E l'Inter Andata Che si giocherà Almenti Ritorno Che si giocherà A San Siro Dunque C'è una cosa da dire Non è più un caso Che lo Stabia sia qui Poteva esserlo Dopo la Lazio Può capitare Nel calcio Ma dopo quella Rimonta contro la Juve Al di là poi Della vittoria Calci di rigore Chiunque pensi Che tu sia Soltanto casualmente In semifinale È destinato a finire male Per carità L'Inter Non lo pensa Però Insomma Cambia poco Perché lo Stabia Fa sul serio E al 34esimo Sblocca la partita Fa esplodere I 20.000 delmenti Con un gol Di Ferdinando Del Sole 1-0 Che regge Fino alla fine O quasi Minuto 79 Romelu Lukaku Pareggia la partita 1-1 Che Se uscissimo Un attimo Da questo momento Della stagione Farebbe anche sorridere Perché comunque Un 1-1 Fermare l'Inter In Coppa Italia Non è niente male Però poi Considerata l'ambizione Paradossale Che sta albergando In tutti noi È un 1-1 Favorisce paradossalmente Loro Perché in caso di 0-0 Volerebbero in finale Al ritorno E allora Andiamo a San Siro È il 13 aprile 2020 Si gioca Alla scala del calcio In un'atmosfera Davvero Paurosa Forse questo è il termine migliore Per lo Juve Stabia Che per carità Ha eliminato Ai quarti di finale La Juventus Allo Stadium Un'altra atmosfera Niente male Ma qui È una semifinale Sono 90 minuti Che ti separano Da un traguardo O tappa Fate voi Forse irripetibile All'Inter Ribadisco Basta lo 0-0 E i Nerazzurri Non vogliono giocare Per lo 0-0 Perché sanno Che potrebbe finire male Attaccano praticamente Per tutta la partita Ma Russo dice di no Provano a inventare C'è Tonucci Cambiano corsia C'è Trois Insomma Lo Stabia difende Lo Stabia però sa Che lo 0-0 Al tempo stesso Non va bene neanche a lei Soprattutto a lei Minuto 88 C'è un calcio di punizione Per lo Stabia In zona comunque Interessante Ma che Dà la sensazione Di essere più Un respiro Per Interrompere Il monologo Nerazzurro Più che altro Ma potrebbe anche Diventare Il pallone Della finale Calcio di punizione Che viene battuto Da Canotto Che pennella Il pallone Col destro All'interno dell'area Dove ci sono Tantissime maglie A saltare A riempire I 16 metri Davanti Ad Andanovic La palla Arriva Per l'appunto All'altezza del dischetto Dove qualcuno Stacca più in alto Di tutti Quel qualcuno È Graziano Pellè Che mette dentro Il gol più Importante Della sua stagione E forse Della sua carriera Una squadra Di serie B Vince A San Siro Una squadra Di serie B È in finale Di Coppa Italia Quella squadra È lo Juve Stabia Di Nicola Al termine Di una stagione Pazzesca Una stagione Che per quanto Ci riguarda Potrebbe anche Terminare qui Ma ormai Ci sei In finale Ormai la vuoi vincere L'avversario Sarà la Roma Che in questo momento Considerando che Gli ha affrontato Juventus e Inter Sembra anche Insomma Un sorteggio piacevole La Roma ha eliminato il Milan Che è primo in classifica In serie A E quindi Sembra quasi Positiva la situazione Ma la Roma D'altronde La Coppa Italia La conosce bene Ha vinto nove volte Questo trofeo Sogna il decimo Successo E Apparentemente Contro una squadra Di serie B Potrebbe anche riuscirci Peccato che poi Quella squadra Sia lo Juve Stabia Che ha già fatto Vittime illustri Fuori la Lazio Fuori la Juve Fuori l'Inter Giusto ribadire Prima della finale È il momento Di concludere Il campionato Perché c'è Come vi dicevo Qualche minuto fa Quello scontro diretto Contro l'Empoli Che lo Stabia Effettivamente Vince 4 a 2 Non riuscendo Però a scavalcare Per la differenza Di punti eccessiva I Toscani Poi ci sarà ancora Qualche passo falso Che tratterrà Lo Stabia Al Al secondo posto Comunque sia È serie A Comunque sia Si esulta Ed è un qualcosa Di incredibile Di pazzesco Anche questo Seconda promozione Di fila Siamo contenti Per la serie A È vero Però abbiamo Una finale Di Coppa Italia Dobbiamo affrontare La Roma Allo Stadio Olimpico C'è Vi rendete conto Che Lo Juve Stabia Squadra di serie B Appena promossa In serie A Potrebbe Da neopromossa Giocare L'Europa League Perché Se dovesse vincere La Coppa Italia Sarebbe così Voi che dite È possibile Come finirà Questo Roma Stabia Come finirà Questa cavalcata In Coppa Italia Non posso che Raccontarvelo Nel prossimo episodio E magari Live Con il mio commento Per mettere Ancor più pepe Su questa meravigliosa Favola Dello Juve Stabia Dello Juve Stabia